Come possiamo riconoscere negli altri l'illuminazione, soprattutto nei praticanti della coscienza di Krishna? Come possiamo riconoscere negli altri l'enlightenment, la maggior parte con le persone che praticano la coscienza di Krishna? Vedete? Vedete? Come possiamo vedere negli altri l'illuminazione? L'illuminazione. Dice questo. Quando potremo vedere negli altri l'illuminazione, quando potremo vedere negli altri che hanno un'anima? L'illuminazione significa vedere l'anima. e quando io vedrò che sono un'anima vivente, un'entità vivente allora potrò vedere anche tutte le altre anime e tutti gli esseri viventi allora diventeranno parte della mia famiglia i miei fratelli e le mie sorelle Gesù lo diceva ama il tuo vicino perché? perché ognuno è il nostro vicino perché ogni anima che è vicino a noi è della nostra famiglia quello è il nostro vicino, è il nostro vicino, è il nostro vicino quello è il significato di vicino, è colui che è vicino a noi tutti sono vicino tutti sono vicini tutti sono vicini noi dobbiamo vedere il nostro self per essere consapevole questo è la consapevolezza di Krishna quando sei inoltre con quella consapevolezza you become to see the neighbors and you start loving neighbors questa è coscienza di Krishna quando noi siamo coscienti della nostra anima e così possiamo vedere tutte le anime che sono vicino a noi posso vedere me e posso vedere gli altri prima vedevo soltanto i corpi condizionati e lo giudicavo perché in base anche al mio condizionamento e questo è il mio limite, il giudicare ma se divento cosciente il mio giudizio cambierà diventa puro diventerà divino vorrò condividere questo amore divino e questo è che ti trovi che fine che comprende questo è quella coscienza di Krishna ok Fermi separazione che hai capito cosa è quella question Kathryn iselle come possiamo riconizzare in l'Ohio l'enlightenment l'enlightenment l'ho Chopra è l'enlightenment e vedere in te iso la sensing esi l'anima e l'illuminazione. La parola illuminazione è l'anima. Questa è la misericordia del Guru, questa è la misericordia del Guru, che mi ha illuminato, in cui si iniziarono l'Elojjayi Janami, Janami Prabhupostri, questa è la conoscenza divina. Cetanjata Amrita is writing Nameruji, Jivedaya, Jivedaya means Nameruji, when you will develop the taste in the name, Jivedaya, then you will first give mercy to your Jiva, self to your self. What there? That you will recognize that, that you are this. che significa che riconosceremo chi siamo. Vaishnava Seva. Allora vedremo che tutti sono Vaishnava. Perché vedremo all'interno di ogni entità vivente l'anima. questo è il servizio di Vaishnava. Vaishnava non è colui che guarda soltanto il vestito e il corpo, ma è colui che arriva all'anima delle persone. che. Allora? Che? Is it ok? Is it ok o no? 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 são letras. 55%